Benvenuti in questo nuovo video, io sono Kiko Z, oggi andremo ad aprire il quinto set di One Piece Card Game intitolato Awakening of the New Era. E' passato un anno da quando abbiamo aperto il primo set di One Piece Card Game in versione giapponese. Se non l'avete ancora visto vi lascio il link in sovraimpressione per andare a vedere. Bandai ha deciso di regalarci un set davvero unico, infatti questo set non conterrà solamente una carta manga come abbiamo visto fino ad ora, ma ne avrà addirittura tre, una per Trafargar Low, una per Eusas Capitan Kid ed infine una per il nostro capitano preferito Monkey di Luffy in versione Gear 5. Sarà forse una delle carte più ricercate di questo set, di sicuro non sarà l'unica né la più importante perché in questo set potremo trovare una carta illustrata direttamente dal maestro Echiro Oda. Questa carta avrà due versioni, una che è questa qua, la versione normale con l'illustrazione di Echiro Oda e lo sfondo nero, mentre la versione alternativa, oltre ad avere la foilatura dorata, avrà anche sul fronte la stampa della firma del maestro Echiro Oda. Sarà quindi una carta firmata dal valore inestimabile, la carta più rara e più costosa uscita fino ad ora. Vediamo se con un po' di fortuna riusciremo almeno a trovare la sua versione normale, che a me personalmente piace davvero tantissimo. Diamo quindi il via all'unboxing del quinto set di One Piece Card Game. Ok, iniziamo ad aprire il box. Come vedete il box è veramente molto bello, tutto bianco, con in primo piano il Luffy in versione Gear 5. E all'interno troviamo le 24 bustine, anche queste tutte bianche ovviamente. Set molto molto bello, all'interno ci sono delle carte davvero davvero molto speciali, come per esempio le special art che abbiamo visto in un video precedente, uno dei miei ultimi video in cui ne parlo e ve le faccio vedere tutte una per una. Quindi direi di aprire la prima bustina e vediamo se in questo set riusciremo a trovare qualcosa di interessante. Ci sono molti leader belli alternative che sono ritornati alle vecchie origini, come abbiamo visto nel primo e nel secondo set di One Piece, in cui i leader alternative avevano come illustrazione i volti in primo piano dei vari personaggi. Quindi vediamo questo set, cosa ci regalerà? Qua abbiamo la prima rara, Baby Five mi sembra che si chiami, molto bella, della famiglia di Donkey Shot. E la mettiamo qua e apriamo il secondo pacchettino. Quindi abbiamo detto che i leader saranno in versione alternative come gli stessi che abbiamo visto in OP1 e OP2. Poi ci saranno molte versioni carte personaggio alternative davvero molto belle, tra cui quelle dei tre capitani e molte altre, che abbiamo visto appunto nei vecchi video. E poi ci sono le special art. Le special art in questo set, ragazzi, sono davvero, davvero molto belle, perché hanno una foilatura che non abbiamo mai visto prima d'ora all'interno di questo gioco. Le carte sembrano fatte di vetro, se andate a vedere il video in cui ve le mostro, veramente, ragazzi, vi lasciano senza parole. Carte molto, molto belle. Rispetto alle vecchie special art che abbiamo visto negli altri set, che, a parer mio, non avevano un granché. Escluse quelle del quarto set, che devo dire che anche quelle non erano male. Vediamo, vediamo adesso. Abbiamo la prima super rara, Rob Lucci, CP0, carta molto bella, personaggio molto amato, ed un mazzo che sta andando davvero molto forte, quello di Rob Lucci. In OP5 il leader di colore nero non sarà più Lucci, ma Akainu, o Sakazuki, come lo volete chiamare voi, e sarà un leader abbastanza forte, che sicuramente lo troveremo nel meta. Quindi, vediamo. Tra tutti i leader, quello che spero di trovare è quello di Ener, perché, ragazzi, l'artwork di quella carta è davvero una cosa incredibile. Ener, che vediamo per la prima volta apparire nel gioco di One Piece Card Game, e, ovviamente, non poteva mancare la sua versione leader. Anche quella sarà una carta molto forte da giocare, vedremo se riuscirà a tenere testa ai mazzi che faranno parte del meta in OP5. Questo set uscirà in versione inglese a partire da dicembre, dai primi di dicembre. Ci saranno tre ondate, la prima, se non sbaglio, i primi di dicembre, ed infine le altre due intorno a metà e a fine dicembre. Io, personalmente, non vedo l'ora che esca questo set in inglese, perché ci sono dei leader e delle carte che voglio assolutamente avere e anche giocare, ovviamente. E una di queste, appunto, è Bellobetti. Carta che adoro, non questa, anche se questa comunque è una bellissima artwork. Mi piace molto il leader di Bellobetti, perché ha un effetto davvero molto interessante, sembra essere un mazzo, un leader molto agro e potente, e di fatti vorrei proprio provarlo e farmi un mazzo per vedere se riesco a vincere qualcosa nei tornei locali e perché no anche in quelli un po' più grossi. Attualmente i leader che ci sono in OP3 non mi fanno impazzire, per questo aspetto con ansia questo set. C'è da dire anche che il 22 settembre uscirà la quarta espansione di One Piece Card Game in versione inglese, quindi ragazzi tenetevi pronti perché a breve spacchetteremo pure OP4, nella speranza appunto di trovare qualche special art, perché quel set ne ha davvero tante e molto belle. Ok, quindi, stiamo dando un'occhiata alle carte di questo set, sembrano carte molto belle, ci sono molti protagonisti della Donkey Shot Family, anche di Alabasta, ovviamente la marina non può mancare. Abbiamo questa bellissima Nami, illustrazione molto bella, e sotto abbiamo Sabo, ragazzi, Sabo, molto bella, molto molto bella. Devo dire che la sua versione alternative non mi fa impazzire, ma questa comunque non è male, non è male. Qualitativamente, a livello illustrativo, sono migliorati molto, e stanno continuando a migliorare, ed è un buon segno perché vuol dire che il gioco è vivo e continua a crescere. Abbiamo una carta evento, Jimbe, bellissima questa carta di Jimbe, illustrazioni come sempre stupende, devo dire che da OP4 le carte diventano davvero delle opere d'arte. E questo personaggio, che non ricordo il nome, è uno dei miei personaggi preferiti, devo ammettere, perché è molto simpatico, però il nome mi sfugge in questo momento. E c'è anche la versione alternative, che è molto molto bella. Spero magari di trovare quella versione lì, e perché no, il Luffy, disegnato, illustrato da Ichiro Oda. Vediamo, vediamo se avremo così tanta fortuna. Adesso comunque io, di questo set in versione giapponese, ne aprirò solo un box. Ma quando uscirà la versione inglese, eh, beh, lì ragazzi, preparatevi perché ne aprirò davvero, davvero molti. E perché no, magari anche un case. No, forse il case no, però sono pronto a spacchettare come un pazzo. Quindi abbiamo questa carta di questo personaggio che non conosco ancora. Deve essere forse dell'armata rivoluzionaria. Non vorrei dire una cavolata, però carta molto bella, una rara, e la mettiamo qua. Quindi, vediamo, andiamo avanti. Continuiamo questa ricerca e vediamo, guardate che artwork figa, ragazzi. Personaggio stupendo. Questo sì, fa parte dell'armata rivoluzionaria. Molto molto bella. Abbiamo qualche viceammiraglio. Carta stage. Abbiamo dress rose. Usop. Bellissima artwork. Davvero molto molto bella. Poi, lei non ricordo il nome, è una carta evento. Molto carina. E diciamo che l'unboxing della versione giapponese va molto più veloce rispetto a quello della versione inglese perché infatti al suo interno troviamo solo sei carte. Mentre nella versione inglese ne troviamo ben il doppio, come il doppio anche delle carte rare. Super rare ed alternative, ovviamente. Quindi, vediamo, abbiamo Ivankov. Oh, attenzione ragazzi. Guardate qua che art, che disegno ragazzi. Che illustrazione bellissima per Ener che sbarca per la prima volta all'interno di One Piece Card Game. Tanto atteso, personaggio molto atteso. Personaggio che la gente lo voleva dal primo set che sperava di trovare questo personaggio. è molto amato, io sono uno di quelli che lo apprezza come personaggio. E quest'artwork, devo dire, che è davvero molto molto bella. 7000 di potenza, costo 7, il suo effetto ancora non lo so perché non le ho ancora controllate. Poi faremo un'analisi delle carte appunto di OP5 più avanti, ovviamente quando si avvicinerà l'uscita in versione inglese. Adesso godiamoci soltanto, soltanto, si fa per dire, godiamoci le illustrazioni che sono davvero molto belle. Quindi, mettiamola qua e continuiamo la nostra ricerca della carta firmata, direi addirittura, no? Sarebbe il colmo comunque trovare una carta così bella e così rara. Addirittura firmata da Ichiro Oda. A differenza di quelle carte che si trovavano in Dragon Ball Super Card Game che erano firmate però non dall'autore ma dai doppiatori in inglese. E appunto sono diventate delle carte davvero molto rare e molto costose da trovare. Quindi andiamo. Abbiamo il leader Monkey di Luffy. Finalmente abbiamo delle illustrazioni decenti o comunque belle per i leader in versione normale. Sono migliorati molto in questo lato qua. Se andate a vedere infatti i leader delle prime espansioni erano davvero molto, molto brutti. Ed infine abbiamo questo personaggio che odio ma non ricordo. Vergo, ecco Vergo. Vergo, colore verde. Molto bene. Allora, ci rimangono 12 pacchetti. Andiamo ad aprire il dodicesimo. Le bustine stanno davvero molto belle. Mi piace addirittura rovinarle con le forbici però, però, fa niente. Abbiamo Kuma, carta rossa. Il serpentone dell'isola nel cielo, di cui non ricordo il nome. Questo personaggio che assomiglia a Vegeta in Super Saiyan Blue che fa parte della Donkey Shot Family. Garp, illustrato molto, molto, molto bene direi, no? Carina come artwork. Un po' diversa da quelle che siamo abituati a vedere. Oh! Eccolo, eccolo ragazzi. L'alternative di luci. Molto, molto bene. Guardate che bella. Vai dai, non è male. Non è per niente male. Ha una follatura un po' strana. Ha questo cerchio che dovrebbe essere una specie di arcobaleno. Molto, molto bella. Leggera texture sul front. E diciamo che è abbastanza ruvida. Mentre l'arcobaleno è l'unica parte liscia insieme ai petali. E niente. Carta, devo dire, carina. Carina, non mi fa impazzire. Però la trovo abbastanza bella. Quindi la mettiamo qua e vediamo se riusciremo comunque a trovare o una carta leader alternative oppure la carta di Ecero Oda, illustrata da Ecero Oda, che penso si possa trovare insieme ad un'altra alternative. Non è ancora sicuro, vediamo, copriamolo insieme e vediamo se ho tutta questa fortuna. Oppure no. Abbiamo Sanji, molto bello. Generale di Alabasta. Ed infine un personaggio di Skypiea. Molto, molto bello. Per ora abbiamo trovato soltanto tre super rare e la carta alternative di Rob Lucci. Vediamo se riuscirò a trovarne ancora un paio di super rare oppure soltanto una. Abbiamo un po' di personaggi. Questa è Nico Robin, se non sbaglio. Molto bella. Abbiamo Vice Ammiraglio. Il Drago Celeste. Ed infine X-Drake. Carta rara. Non male, devo dire. Non male. E andiamo avanti, perché qua le bustine ci stanno chiamando. E non vedo l'onora di essere sbustate. Spero tanto di trovare una carta alternative leader. Che ne ho trovate davvero molto poche. Fino ad ora. Forse un paio. E mi piacerebbe appunto trovare la versione alternative di Ener. Anche se comunque non collezione. Eccolo qua. Ener. Parlavo di lui. Questa è la versione normale del leader. La versione alternative invece si vede il suo volto in primo piano. E' davvero molto bella. Nefertari Vivi. Molto carina. Protagonista del quarto set in uscita a breve di One Piece. Avrà appunto un'illustrazione davvero, davvero molto bella. Sarà uno dei leader che potremo trovare all'interno del quarto set di One Piece Card Game. Vediamo. Vediamo intanto. Perché noi qua stiamo spacchettando la quinta espansione. Quindi quella che celebra il primo anniversario del gioco. Questa è una carta evento. Molto bella. E apriamo la prossima bustina. Abbiamo una carta evento. Personaggio che troviamo in Skypea. Anzi no. Personaggio che troviamo sulla luna ragazzi. E chissà se un giorno riusciamo a vedere tutti questi personaggi insieme ad Ener. Se torneranno. Torneranno. Oh eccolo. Il Dawn Alternative. Guardate che bello. Guardate che bello. E Luffy che tira un pugno a Kaido. Molto molto bella. Molto accattivante questa carta Dawn. E la mettiamo via ovviamente insieme ai nostri altri Dawn Alternative che abbiamo accumulato fino ad ora. Abbiamo Killer. Molto bello. Davvero molto molto bello. Mi piace. E la mettiamo via. Ok. Ci rimangono pochissime bustine. Vediamo se riusciremo a trovare ancora qualcos'altro. Direi che è abbastanza difficile. Perché diciamo che essendo un box giapponese la possibilità di trovare un'altra Alternative o comunque una Special Art è davvero molto bassa. A differenza appunto della versione inglese in cui è molto più facile trovare doppi personaggi Alternative. doppi personaggi Alternative più i leader Alternative. Quindi diciamo che è più vasto. Qua abbiamo una carta rara. Molto bella. E adesso apriamo il quintultimo pacchetto. I box ho visto che sono più piccoli rispetto ai primi che sono stati realizzati. Forse perché vogliono risparmiare anche in Giappone nel materiale, nella carta e nella plastica. Il fatto sta che i box sono più piccoli. Quindi se avete dei box giapponesi che sono leggermente più piccoli rispetto a quelli della prima espansione. Non abbiate paura perché è tutto normale. Anche nelle versioni inglesi la stessa cosa. Non penso che faranno più dei box grandi come quelli della prima espansione. Della prima stampa appunto di One Piece Card Game. Molto bella questa carta. Vediamo Zoro con alle spalle Sanji. Ma lo vediamo in un'illustrazione davvero molto originale. A me piace molto, parecchio. Carta di colore viola. Perché di colore viola? Perché il leader dei Mugiwara sarà Luffy di colore viola. E stiamo vedendo sui siti di One Piece Top Deck che in Giappone il colore viola sta dominando i meta. Quindi parliamo di Luffy. Che finalmente ha preso il posto dei leader di colore rosso tra cui Zoro e Barba Bianca che hanno dominato per un intero anno il meta di One Piece Card Game. È una carta rara. Carina. E apriamo il terzo ultimo pacchetto ragazzi. Sia vicino alla fine sia vicino alla verità. Vediamo se ci sarà il colpo di scena. Se troveremo una special arte. E urleremo tutti insieme dalla gioia. Io lo spero onestamente. Poi vediamo. Vediamo se la fortuna è la nostra parte. Abbiamo Nico Robin. Nico Robin molto bella. Questa artwork molto accattivante. E poi il leader Sabo colore rosso e nero. Molto bene. Ultima carta. Una carta evento di Sakazuki. Ah ecco. Sakazuki. Quando colpisce Barba Bianca e gli ranca via una parte della testa. Non so se l'avete visto. Nel manga perché nell'anime non è che si vede. Nell'anime forse con questa mossa gli toglie un pezzo di barba forse. Invece nel manga ragazzi. Andatevelo a vedere se non l'avete ancora visto. Penultimo pacchetto. Vediamo. Poi se non troviamo niente ragazzi. Fa niente perché. A dicembre. Inizieranno ad uscire quelli in inglese. E lì. Si che mi darò alla pazza gioia. Carte rosse. Abbiamo il re di Dressrosa. Carte evento della Don't Shot Family. Oh e infine Traffargar Low in versione SR. In versione SR molto bella. Con lo stile di Wano. Molto molto bella. E andiamo ad aprire adesso l'ultima bustina di OP5. Versione giapponese ragazzi. Le versioni giapponesi le apro ma non le colleziono. Le apro per fare i video e farvi vedere in anteprima le carte che potremo trovare quando uscirà la versione inglese. Ma a livello collezionistico preferisco la versione inglese. Sicuramente molti di voi collezionano solo giapponese o comunque entrambe. Però io preferisco collezionare solamente in versione inglese. Anche perché diventerebbe troppo dispendioso collezionare tutte e due. Abbiamo Sanji in questa bellissima artwork. Ecco qua vediamo Sanji e qua abbiamo Zoro da un'altra prospettiva. Infatti qua abbiamo lui alle spalle di Sanji e in questa carta vediamo Sanji alle spalle di Zoro. Cambia praticamente la prospettiva della carta. Molto bella. A differenza che una è comune e l'altra è rara. Quindi abbiamo ancora qualche carta da vedere. Abbiamo Frenkie. Ed infine ultima carta. Oh abbiamo la principessa dei Tontatta. Molto carina. Carta rara. Ed è finito qua. Quindi abbiamo trovato parecchi rare. Come abbiamo visto. Molti eventi rari. Molti personaggi. Abbiamo parecchi personaggi di Skypea. Quindi del mazzo di Ener. Qualcuno di Alabasta. E qualche personaggio della Donkey Shot Family. Che si è vista di più nel quarto set. Ma comunque nel quinto vuole ancora pompare appunto il mazzo di Donkey Shot. Do Flamingo. Queste erano le rare. Vediamo adesso le super rare. Abbiamo Trafalgar Low in versione Wano. Molto carina. Molto molto bella. Poi abbiamo Rob Lucci. In versione SR. Sabo. Quello di Sabo devo dire che non è male. Molto bella. Lo stile mi piace. Sembra quello di uno stile di fumetti americani. Molto bella. Mi piace molto. Ed infine la rivelazione di questo set. Ovvero Ener. Personaggio. Come ho detto prima. Che ha Proda per la prima volta. All'interno di questo gioco. Molto bella la carta. Vediamo adesso le Alternative. La prima è questo Don che è davvero qualcosa di spettacolare. E poi abbiamo la versione Alternative di Rob Lucci che abbiamo visto in versione normale che è questa qua. E questa è la sua versione Alternative. Molto molto bella. Unico pool di questo set. Peccato perché avrei voluto trovare almeno la versione normale della carta illustrata da Ichiro Oda. Che devo dire non è neanche molto cara attualmente in Giappone. Più o meno sui 40€. Invece se andate direttamente in Giappone. Cosa che trovo. Penso che sia molto difficile per tutti voi. La potete trovare anche a 20€. Dipende anche da chi ve la procura. Penso che con 30€ ve la potete cavare. Però ragazzi. È appena uscito. Quindi può darsi che nel tempo scenda anche di prezzo. E in più a dicembre uscirà anche la versione inglese. Che spero tanto non sia troppo cara. Ma rimanga più o meno su quel prezzo. Intorno ai 20-30€. Non parliamo della versione Alternative. Perché quella avrà un prezzo penso assurdo. E inaccessibile a molti di noi. Però se abbiamo fortuna magari lo troveremo. Bene. Questo era l'unboxing del quinto set di One Piece Card Game. Un set che celebra il primo anniversario del gioco. Spero che il video vi sia piaciuto. Per altri video vi invito a entrare nel mio canale. Iscrivervi. Dare un'occhiata a tutti i video che ho fatto fino adesso. Ne abbiamo fatti più di 100. Un sacco di unboxing. Un sacco di video analisi di mazzi e di interviste. Io vi saluto qua. Vi do appuntamento al prossimo video che uscirà a breve. In cui esaminerò tutti i leader del quarto set che uscirà il 22 settembre. Vi do quindi appuntamento al prossimo video. Ciao!